ciao ragazze oggi vi mostro il nuovo trattamento concentrato 7 in uno di l'oreal paris che ho ricevuto da bui tester per il mio primo fast test la manicure 7 in un savior avete unghie sfaldate o striate unghie che si spezzano e danneggiate unghie spente molli e fragili miracle repair promette una soluzione per 7 problemi di cosa si tratta 7 in un savior è un trattamento concentrato studiato per combattere 7 segni visibili delle unghie danneggiate svolge infatti un'azione anti rottura anti sfaldatura anti striatura anti indebolimento anti fragilità anti squamatura anti irregolarità la tecnologia innovativa di questo smalto combina le proprietà nutritive dell'olio di argan con un concentrato di attivi per aiutare a ristrutturare proteggere e fortificare le unghie giorno dopo giorno le unghie appaiono più protette forti e lisce i risultati sono incredibili le unghie appaiono come nuove l'azienda consiglia di applicare il trattamento come base prima dello smalto o da solo per unghie curate e naturali 10 euro e 24 centesimi disponibile vedi dettagli amazon it is over juno 2023 17 19 descrizione anti rottura e anti sfaldatura anti striatura e anti indebolimento anti fragilità anti squamatura e anti irregolarità anti squamatura e anti irregolarità controllare il simbolo pao period after opening che indica il tempo di scadenza del prodotto dopo l'apertura della confezione il trattamento 7 in un savior viene presentato in una boccettina da look elegante con tappo ed etichetta color oro pendante con la scatolina di cartone su cui ci si può specchiare a differenza di una normale base trasparente questo trattamento ha una texture lievemente lattiginosa e lievemente più fluida di uno smalto non essendo trasparente dona un aspetto molto bello e naturale alle unghie che appaiono impercettibilmente più rosate non ho allegato foto perché dalle foto sembra una normale base trasparente l'azienda propone di usare il trattamento sia come base per uno smalto colorato sia da solo e quindi ho provato le due alternative per capire come usarlo al meglio premesso che il trattamento si applica come un normale smalto usato da solo ho notato una durata un po scarsa infatti si è rovinato facendo lo shampoo il giorno dopo l'applicazione usato come base ho notato che gli smalti colorati che ho usato sopra si sono sbeccati dopo qualche giorno nonostante avessi usato un buon top coating gel mentre l'applicazione è semplice e rapida la tenuta non è delle migliori ma poco importa perché secondo me conviene usare il trattamento da solo quindi senza applicare uno smalto colorato sopra tenerlo per qualche giorno riapplicando il prodotto più volte facendo diversi strati in modo di consentire agli attivi di fare effetto come base non ha una buona tenuta e ovviamente non conviene lasciarlo sulle unghie per poco tempo secondo me il modo migliore per utilizzare questo trattamento è stratificarlo e tenerlo più giorni possibile sì i miglioramenti ci sono ma solo quando avrò terminato tutto il contenuto della boccetta vi potrò dare la conferma ultimamente avevo le unghie un poco rovinate perché ho rimosso lo smalto senza solvente ma tirandolo via a pezzettini adesso le unghie sono tornate alla normalità prezzo 9 euro prezzo amazon quantità 5 millilitri pao 24 mesi made in france l'oreol paris la manicure 7 e non un saver base smalto curativa 10 euro e 24 centesimi disponibile es of juno 2023 17 e 19 vedi dettagli amazon it prezzi aggiornati al juno 2023 17 e 19 ciao e alla prossima recensioni correlate base smalto ultra rinforzante pupa recensione si e olino uno smalto base 3 in 19 euro 8 8,0 10 acquista grazie a tutti